Vediamo che succede in questo caso, pallone per Greco, il cross in area di rigore, la sfera per Vitiello, Vitiello in azione, il destro in area di rigore ribattuto, l'esterno sinistro, grande gol, grande gol, grande gol, spettacolare e straordinario, un gol da Serie A. La rete è messa a segno da Flauto, spettacolare gol, Boschese 1, città di Montoro 0. Ed ecco in azione la Boschese che mette in moto Panariello in fase offensiva, ancora Panariello in azione, contrasta la difesa, il tacco si gira, l'assist per Granato, Granato penetra in area di rigore, il destro ed è 2-0 a favore della Boschese grazie all'attaccante Granato.